Perché questa immagine del film Napoleon è così bella? Come dico sempre, più un'immagine è tridimensionale e più rappresenta la realtà, più un'immagine è bella. In questo caso abbiamo un'immagine estremamente profonda, abbiamo tre piani di profondità. In foreground, l'interlocutore, ovviamente fuori fuoco, il nostro protagonista ha fuoco, e il background, che è questo muro, è fuori fuoco. L'illuminazione è giustificata da, presumibilmente, una finestra e conferisce al volto del nostro protagonista un'illuminazione split light, quindi mezzo viso scuro e mezzo viso illuminato. Questo dà all'immagine del protagonista un aspetto estremamente drammatico. L'occhio illuminato ha anche una punta di luce, dato dalla luce con la quale è illuminato, che cattura la nostra attenzione proprio sull'occhio. Quindi facendo ballare il meno in giro possibile l'occhio nell'inquadratura, e quindi meno l'occhio è confuso, più l'occhio saprà dove andare a guardare, e più l'immagine inconsciamente risulterà piacevole. La temperatura dell'immagine globalmente è abbastanza fredda. Abbiamo il muro dietro, che ha una tinta decisamente verso il verde, che contrasta molto bene il volto del protagonista, che invece ha una tinta più sul viola, creando quindi un contrasto molto 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 forte. Psicologicamente, cosa ci dice questa temperatura un po' più fredda? Sicuramente non ci dà comfort, ma conferisce all'immagine una sorta di tensione. Noi possiamo già percepire da questa immagine, anche dal volto del protagonista, e anche dal colore, che non sarà una conversazione facile, ma sarà una conversazione difficile e tesa.